sentite questo silenzio io sì tutti hanno detto la loro su questo iphone 15 pro finalmente tutti l'hanno elogiato hanno detto che vai è il miglior smartphone per fare le foto in assoluto adesso facciamoci una bella analisi lightroom dei file e confrontone con show me 13 ultra sigla non c'è rapidamente vi lascio qui la scheda tecnica diciamo con i sensori di entrambi ho fatto fatica a trovare informazioni sul 120 mm ma dovrebbe essere un terzo di pollice il sensore dovrebbe sta nei miei calcoli fatemi sapere se qualcuno ha delle informazioni e mi butterei subito su lightroom a guardarci i file sul suggerimento di qualcuno di voi ho messo qui delle informazioni differenti in modo che abbiate sotto mano sempre il modello i megapixel e anche i parametri di scatto che hanno intrapreso i due smartphone come sempre vi ricordo che io scatto lasciando tutto in automatico seppur nel caso di android più che altro in modalità pro per vedere appunto come si comporta nella lettura dello scenario cercare di fare un confronto equo vi sottolineo io alcune differenze alcune cose ad esempio quasi tutti gli scatti sono scattati ovviamente in apple pro raw 50 megapixel nel caso del sensore principale di iphone ultra raw nel caso di show me 13 ultra che è un po la risposta al profilo apple pro raw se vogliamo per chi non lo sapesse andatevi a recuperare video sul canale è questa cosa che fanno molti android in realtà di quest'anno 2023 dove lo scatto è un po più lento ma va a raccogliere più scatti in raw lì somma per avere più informazioni e crea una sorta di effetto hdr su sul file raw originale grossomodo quello che fa anche l'apple pro raw vediamoci questo primo scatto sensore principale molto simile resa un po più calda su iphone io vi dico la mia ma vi lascio giudicare lascio un po l'immagine così entrambi a 50 megapixel 48 per iphone 50 per sciami poco cambia vi dico già vi voglio sottolineare già una differenza che dopo emergerà iphone è molto più conservativo sui tempi e questo si nota devo dire che nell'utilizzo di questi anni in realtà perché sono anni che scatto sia con android che con con iphone ecco nel caso di soggetti in movimento anche con buona luce necessità di dover congelare il soggetto iphone sbaglia molto meno proprio perché è più severa con i tempi e magari gioca con dei iso un po più alti ma difficilmente vi dà del micro mosso su situazioni magari semplici cosa che su android succede devo dire molto più spesso comunque qui abbiamo una resa abbastanza simile vi faccio soltanto notare vediamo rapidamente il dettaglio parere mio gusto mio io preferisco sempre non ho ancora trovato uno smartphone che mi faccia preferire a livello di colori di colorimetria la scelta che quest'anno ha fatto show me insieme a laica sui suoi file mi piace tantissimo una resa naturale in cui rivedo proprio tanto la realtà quello che notavo su questo scatto che in realtà ha poco da dire uno scatto semplice simile su entrambi e qui evoco gli esperti magari di filtri e lavorazioni dei vetri delle lenti filtri UV polarizzazioni direttamente sul lente non lo so non ne ho idea è che l'iphone forse è un caso ma soffre un po' di più sul classico problema della fotografia paesaggistica di essere un po' più diciamo sbiadita sulle lunghe distanze specialmente in situazioni così aperte di mare o di montagna e quant'altro non so se è un caso se effettivamente io non ho usato filtri ovviamente fisici davanti alle lenti è una questione legata alla lavorazione del vetro e della della lente vi ripropongo la questione dei tempi di scatto guardate qui uno su 10.000 uno su 1900 per quanto riguarda invece xiaomi condizioni di luce identiche sono state scattate a due secondi di distanza ultraro che come abbiamo visto tende un po spesso a sovraesporre lo scatto lo fa anche qui entrambi comunque diciamo garantiscono il congelamento dei soggetti direi abbastanza bene con delle rese che adesso ve l'allineo un secondo ma sono comunque abbastanza simili al netto della scienza colore ovviamente ma la lettura diciamo la proposta dell'apple raw apple pro raw e dell'ultraro tutto sommato è simile in termini di dettaglio scusate qui ho impostato per sbaglio la camera 12 megapixel ne approfitto per dirvi che questo è un grosso vantaggio di iphone l'abbiamo visto anche nella parte video la continuità all'interno del software non solo tra le tre lenti in termini di pasta di resa dell'immagine ma proprio anche all'interno dell'app raramente quando imposto la mia app devo poi stare attento ai parametri qui ad esempio se imposto i 50 megapixel che sono supportati solo sul sensore principale come anche qui del resto ogni volta che poi vado su una camera più larga più stretta e passo quindi a 12 quando poi ritorno sulla camera principale la camera principale sarà impostata a 12 non rimane a 50 megapixel come l'avevo impostata io quindi rischio di fare dei file a 12 come in questo caso pur non volendo qui invece raw max 50 megapixel sul principale vado su secondari scatto a 12 torno sul principale scatto a 50 quindi questa è la marcia in più di iphone lato software proprio a livello di utilizzo dell'app minimal semplice con tutto sempre al posto giusto e che raramente vi crea difficoltà il grande però anche il grande contro perché poi sappiamo che è molto povera in termini di funzioni specialmente se ricerchiamo un approccio un po più professionale scatto simile qui sempre per vedere come si comporta nel congelamento dei soggetti stessa cosa sui tempi è molto più severo iphone sì quello che fascia mia è sufficiente a congelare l'attimo è vero ma sapere che nel punto e scatta in automatico la mia macchina preserva molto di più i tempi di scatto sapendo che ho anche poi a che fare con dei file belli cicciotti abbastanza lavorabili e diciamo immagine una in una street anche diurna mi fa stare un po più tranquillo casistica diversa tramonto poca luce molta meno luce di quella che fanno percepire questi due scatti perché entrambi sempre apple pro e ultraro tendono un po ad aprire lo scatto ad aprire l'ombra eccetera vi porto il primo di una serie di esempi che vedremo di come iphone con poca luce non so se è una cosa di cui gli aggiornamenti sistemeranno ma fa qualche casino vi faccio vedere sempre tempi di scatto più severi guardate nel dettaglio ovviamente una differenza che non è quella reale che ci può essere tra i due smartphone assolutamente io non ho fatto del micro mosso i due smartphone erano appoggiati a terra e ho premuto nello stesso momento iphone mi ha impastato tutto si è perso via tutto il dettaglio non so come sia possibile ma vi dico che mi è successo altre volte dopo ve lo faccio vedere non è micro mosso non credo sia un errore di messa a fuoco perché non vedo un punto di fuoco differente non è che dice appuntato il fuoco qui sotto macchina e allora è lì o qua siamo su infinito quindi come potrebbe essere qui in mezzo no non crei questo sfocato su questa distanza con la 24 mm quindi non lo so è andata un po a pattinare l'immagine che vista così larga sembra ok quando poi vado a zoomare è praticamente un disastro e siamo su 50 megapixel su entrambi gli smartphone andiamo su una situazione totalmente diversa iniziamo a vederci la camera 3x ecco qua ne voglio approfittare per fare una parentesi su perché comunque questi profili apple pro raw che comunque quello che lavora meglio in questo senso un po più affidabile e ultra raw in questo caso ma se ne sono visti altri su andore di quest'anno comunque sono armi a doppio taglio guardate qui questo è un controluce guardate come la resa di questi scatti non rispecchi per niente i parametri di scatto cioè 50 iso un settecentesimo qui addirittura uno su 9 mila e lo scatto è tutto aperto praticamente si vede si vede che è una forzatura da entrambe le parti non mi fa impazzire questa cosa per questo in realtà con lo show me scatto sempre in ro e vado tranquillo vi faccio vedere però iniziamo a solcare un po il terreno della lavorabilità come se devo andare a recuperare un po di naturalezza sullo scatto di show me tutto scende in maniera abbastanza progressiva e vado verso una direzione un po più credibile per creare un po una base per andare a lavorare poi sul mio scatto se devo andare a lavorare sullo scatto di iphone che adesso porto qui a sinistra succede qualcosa di strano vedete come si va è come se si andasse subito a mangiare dei dettagli vedete non ve lo so spiegare benissimo a parole ma secondo me rende l'idea questa cosa di come ci sia un qualcosa che mi fa pensare che questi scatti quando escono così un po forzati e forse non solo sono difficilmente poi lavorabili e recuperabili in qualche in qualche modo c'è qualcosa che non mi convince poi insomma fatevi anche voi delle prove con il vostro iphone se ce l'avete basta cercarvi un controluce questa roba vi capita molto spesso purtroppo e vediamone un altro allora altro esempio ecco di scatto dove realtà non c'è così tanta luce ecco la resa più fedele è questa qui di show me dove ho scattato questa volta in raw non in ultra raw vedete che differenza non c'è la ricerca di un hdr forzato qui si vede la resa molto più naturale il cielo è bruciato qui invece va a recuperarlo si vede si vede che è tramite diciamo una forzatura del software non una reale gamma dinamica estesa del del sensore che infatti non potrebbe essere ma guardate infatti cosa succede anche qui come nello scatto di prima se fatemelo un secondo allineare ok non posso recuperare il cielo per intero su show me ce lo siamo persi prendiamo invece iphone e proviamo a non lo so chiuderlo un po vedete che sul cielo ad esempio non c'è recupero in realtà perché ha già fatto tutto il software quello che poteva fare l'ha fatto il software con l'apple pro rotto show ok adesso abbiamo un attimo iphone a destra e sciami a sinistra guardate anche qui situazione con soggetto con poca luce che viene diciamo tirato su dal software vedete come c'è mancanza di dettaglio in qualche modo è un po come se si avesse appiallato in questo caso prendo l'esempio del volto ma apriamo anche le ombre no ok non esce nulla va semplicemente ad opacizzarmi se invece ci lavoro sullo sciami in questo senso vado non so ad aprire le ombre si ovviamente non posso fare miracoli ma non ho quello stesso effetto eccoli qua che ho sull'iphone è come se il file fosse portato già al limite e nel momento in cui vado a lavorarci succede un po un pastrocchio sicuramente con una lavorazione approfondita posso ottenere delle cose ma è un po una lavorazione snaturata rispetto a come lavoro almeno io in maniera classica sui miei file su lightroom ma la cosa che più mi stranisce è questa roba che succede quando ci sono luci basse di una sorta di riduzione rumore a questo punto direi che distrugge un po il dettaglio e questa roba io sul 14 sul 13 non me la ricordo qui la vedo un po invasiva ecco anche qui scattato in raw normale su xiaomi e non in ultra raw mentre abbiamo il classico apple pro raw che qui invece secondo me lavora molto bene su questo controluce ultra wide entrambe 12 megapixel mi tira fuori il dettaglio ma finché può senza esagerare senza creare una resa farlocca e comunque mi sembra anche già un punto di partenza dove posso andare a lavorare meglio in questo caso secondo me ad esempio nella chiusura del soggetto nel creare una silhouette e quant'altro vediamo ad esempio sulle alte anche qui che iphone ha già fatto il lavoro sporco se vogliamo si nota mentre su xiaomi me lo devo andare a cercare e lo trovo perché una lavorabilità pazzesca lo xiaomi 13 ultra e lo sappiamo quindi un pochettino questo vediamo il dettaglio sulla ultra wide se ne andiamo un po ad allineare iphone non so prendiamo le ultra wide su smartphone fanno quello che possono e mi sembra abbastanza simile il sensore se non erro è proprio lo stesso a livello di grandezza 1 su 2 55 e viaframma un po più spinto su sullo xiaomi 1.8 2.2 su iphone forse fa un po meglio sulle aberrazioni iphone cromatiche però poi a livello di dettagli insomma siamo lì non non eccelse le ultra wide su su smartphone andiamo avanti con ennesimo confronto tra apple pro raw e raw normale non ultra raw di xiaomi rese totalmente diverse vi dico lo vedete da voi se volete vi faccio vedere metadati ma qui siamo oltre il tramonto ok il sole praticamente è su sulla soglia sta sta veramente sparendo la resa nella realtà è molto più simile a quella di xiaomi che non a quella di iphone che comunque vedete nella maggior parte dei casi anche in questi scenari crea questa resa da file già pronto già chiamiamola instagrammabile però tra le mani un raw importante super lavorabile in termini di colore eccetera che funziona in realtà che funziona abbastanza bene qui è una resa più naturale su cui devo andare ad intervenire necessariamente prendo un po lo scatto eccetera certo è sempre il solito discorso se scatto in raw è perfettamente naturale avere questo processo questa resa me l'aspetto più da un jpeg invece iphone scatta un po con la stessa resa di un jpeg ma in raw abbiamo il file che più lavorabile più informazioni se lo lavoro non spappola i colori eccetera ed è anche un po più morbido rispetto a quando scatto in jpeg dove la nitidezza elettronica diciamo si fa sentire parecchio e lo vediamo anche qui dai parametri che si più iso ma tempi più rapidi e grosso modo i soft il software quando si scatta in apple pro raw in ultra raw cosa che qui non ho fatto praticamente va a sovrastare il file rendendo i parametri con cui si scatta non non affidabili rispetto alla resa che che vediamo su show me sicuramente sicuramente vediamo possiamo andare a eccoli recuperare ad esempio il cielo la striscia del cielo possiamo andare sicuramente a tirare fuori del dettaglio e vediamo nel dettaglio insomma è uno scatto veramente qui con pochissima luce ragazzi quindi il dettaglio lascia il tempo che trova ma anche qui vi faccio notare guarda caso in situazioni di poca luce come iphone tende un po a piallare la nostra fotografia si nota quindi le increspature del mare secondo me si nota vediamo ad esempio su questa roccia secondo me si nota vedete non lo so stiamo parlando chiaramente di una situazione molto estrema dove da nessuna o due delle parti vedo risultati pazzeschi ma vedete tutto un po più opacizzato e meno come se le texture fossero piallate diminuite in qualche modo ecco fa questo gioco questo brutto scherzo passiamo alla 5 per che è quella che molti di voi stanno secondo me attendendo iphone a sinistra asciami a destra ve lo dico subito piacevolmente stupito da questa 5 per ho fatto fatica in rete a trovare la grandezza del sensore ma dovrebbe essere un terzo di pollice stando ai miei calcoli su quanto sono grandi pixel è perché questa roba si trova non non la grandezza del sensore la tipologia il modello del sensore non lo diaframma leggermente più aperto su iphone tolto uno sfocato leggermente ma proprio si vede meglio in altri esempi più marcato su sullo xiaomi per il resto li ho trovate incredibilmente simili guardate anche come i parametri si allineano improvvisamente ma non solo anche la colorimetria la propria resa no dei dei colori di tutto quanto è incredibilmente simile sembra lo stesso telefono veramente simile vediamo qui su questa qui lo sfocato si nota un po di più iphone xiaomi poco poco per il resto ragazzi si sul volto sull'incarnato qui c'è una differenza un po più caldo un po più saturo sull'iphone ma veramente se gli leviamo le diciture qui e mi dite quale shami e quale iphone su tutte le altre vi so rispondere probabilmente su queste no vediamo una terza sempre 5x qui lo sfocato si nota ancora di più su questa distanza guardate le palme dietro e alla vegetazione l'ho notato anche nei video il verde in generale in particolare su la vegetazione non è gestito benissimo su su iphone fa delle cose abbastanza bruttine vedete qui anche che colpi di saturazione random che ci sono un po così strani non è bello uniforme naturale come sullo shami ma questo non è una prerogativa della 5x succede un po con tutte le ottiche ma per il resto qui ecco emerge un po di più l'apple pro raw scatto un po più aperto diciamo a livello di ombre eccetera un po più ripulito se vogliamo ma per il resto sono veramente molto molto tanto simili ultimo esempio per riproporvi la problematica che vi dicevo prima con basse luci qui c'è pochissima luce siamo in aereo fase quasi di decollo scatto con aereo fermo io sono fermo i tempi sono più bassi sullo xiaomi addirittura e anche qui vi faccio vedere nello specifico texture del sedile di ryanair maledetto sedile di ryanair piallata totalmente su iphone texture presente invece su sullo shami quindi direi che abbiamo visto abbastanza andrea le conclusioni molto rapidamente come ogni anno lui è uno strumento incredibilmente equilibrato ma forse come ormai anzi forse come da sempre non è il miglior smartphone per la fotografia di questo ne sono abbastanza convinto a differenza del comparto video dove distacca di gran lunga la concorrenza soprattutto per la gestione del software per delle funzioni specifiche veramente impressionanti e per la compatibilità che lato video diventa ancora più importante con le app di terze parti qui sulla parte fotografica il software è un po un'arma a doppio taglio e finché cerchiamo il punto e scatta veloce il jpeg è l'arma vincente meglio non possiamo trovare ma appena chiediamo qualcosina in più in una direzione professionale la concorrenza offre di meglio le incertezze sono troppe l'apple pro raw è un file che può passare dall'essere incredibile all'essere un'incredibile arma a doppio taglio con degli scenari e dei momenti in cui diventa poco gestibile non così tanto lavorabile a differenza di quello che si crede invasivo e con una resa un po un pochettino farlocca e come sempre a chi mi dice è ma tanto è uno smartphone il punto e scatta che ci serve il punto e scatta in jpeg vi dico no ragazzi secondo me no e lo dimostra proprio tutta la campagna di comunicazione di apple che comunque va nella direzione dei professionisti e soprattutto attenti perché se spendete questa cifra per questo iphone l'unico motivo che può giustificare l'acquisto di un pro dall'acquisto di un plus di un 14 plus della versione liscia di smartphone comunque meno costosi è il reparto camera e il reparto video ma per i professionisti o comunque per chi ci lavora l'utente medio che scatta in jpeg ragazzi non se ne fa nulla di tutta questa roba qui secondo me e quindi allo stesso tempo diventa secondo me fondamentale fare delle analisi di questo tipo e avere delle pretese molto alte insomma normali in realtà per chi lavora con questi strumenti e andare a capire veramente cosa funziona e cosa no anche lato hardware la limitazione che hanno fatto quest'anno è assolutamente ridicola è una mossa che di mercato palesemente che serve a favorire il modello dei prossimi anni ditemi voi chi cavolo uscirebbe di casa con la possibilità di avere due lenti un 24 millimetri e un 120 millimetri è una scelta un tantino particolare manca il teleobiettivo di mezzo che sulla versione non max è comunque insufficiente perché è lo stesso dell'anno scorso e era già invecchiato male quello dell'anno scorso rispetto alla concorrenza che su range 70 80 millimetri ha fatto passi da gigante con robe assurde vi invito ad andare a vedere i video sull'ultra sull'opo fendix 6 pro sul vivo x 90 pro plus che stanno veramente dieci passi avanti su tante tante cose una grave mancanza che vi voglio sottolineare che lato video è passata un po più in sordina è anche quest'anno la mancanza di un accesso rapido veloce allo scatto qui doppio click del tasto volume e sono pronto a scattare con le ultime impostazioni selezionate e e si scatta in street qui invece un disastro questo nuovo tasto che hanno aggiunto ridicolo imbrazzante scomodo difficile da trovare lo si confonde con i tasti volume bisogna tenerlo premuto troppo a lungo e vicino alle fotocamere quindi spesso finiamo con il dito davanti alle camere e direi che questo è sufficiente apre sempre modalità foto quindi bene per questo video dove si parla di fotografia male se invece mi sto muovendo in giro per girare dei video perché ogni volta devo ritornare in modalità video e si poteva fare come si fa su tutti i telefoni normali ovvero dare delle assegnazioni ai tasti volume tramite doppio click che sarebbero state molto più comode secondo me e intuitive senza dover aggiungere un ulteriore tasto tra l'altro lì vicino messo malissimo detto ciò per questo video direi che è tutto spero che l'analisi come sempre vi sia piaciuta se vi piacciono questi video sostenete il canale con un like commentate soprattutto vi rispondo sempre voglio sapere la vostra voglio sapere anche proposte per migliorare questo format recuperatevi gli altri video perché fra un po' arriva il confrontone di fine anno tra tutti e la classifica di quelli che secondo me sono i migliori smartphone del 2023 per la fotografia vi ricordo che trovate anche il preset lightroom a 5,99 in offerta sul mio sito molti di voi mi hanno fatto i complimenti grazie datevi un'occhiata potrebbero essere i preset che fanno a caso vostro per questo video è tutto grazie per essere stati con me e ci vediamo alla prossima